Mi ero dimenticata che c'è una festa di una mia amica. Italiana, ovviamente. Anch'io sono italiana, eh? Non è che se le mie amiche non sono musulmane allora vuol dire che sono delle pazze che pensano solo a bere e fare sesso, eh? Questi fregni? Ah, è sana. Oh! Ma io ci stai provando con il mio sorello. Ma smetti! Che ti pare? Son sorello! Però un po' ti piace, eh? No. Sì, va bene. Che cazzo voleva le bastarde? Mi hanno chiesto di dividere la casa a Mi Conosco Noi. Cosa? Mi aiuti a cacciarle perché non so più come fare. Che per cazzo no? Secondo me ti stai facendo un po' troppo di paranoia. Vuoi provare tu a essere una ragazza musulmana con il vero in Italia? Sono io e un po' di queste cose le so. Pensate tutti che sono una sottomessa una che viene oppresso dai propri genitori. Ma nessuno me lo stringe a mettere in bene. Che ne sai tutti quello che penso io? Ma se gli uomini fossero due gay, te lo potresti togliere? Un minuto, uno. Poi Martino è pure bisessuale, dai. Sì, va bene. 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 Sì, va bene.